Gli Astechi pensavano che ogni 52 anni il mondo potesse finire, per questo celebravano in quella occasione una grandissima festa, anche cruenta con dei sacrificati, aspettavano di vedere che le pleiari culminassero nel cielo e quindi anche questo aveva un significato astronomico decisamente importante, però il momento clou era quello nel quale i loro due calendari ritornavano in sincronia, il loro principale calendario rituale era di 260 giorni e invece quello solare era di 365 giorni, anche se qualcuno pensa che avessero già una sorta di bisestile, di corrispondente del bisestile, altri autori invece non sono d'accordo. Però la cosa importante è che il minimo comune multiplo fra i due periodi cadeva ogni 52 anni solari e in questo caso ritornavano in ciclo anche i periodi dai 260 giorni. Ora in queste occasioni gli Astechi pensavano che l'universo avesse due possibilità, uno faceva ripartire i contatori e quindi due calendari ripartivano da zero, due faceva terminare tutto. Secondo loro erano già passate quattro ere, noi ci troveremmo secondo le tradizioni Asteche nella quinta che però a differenza delle altre non avrà un seguito. Questo è quello che cerco di spiegare nel mio codex 2027, anche se naturalmente il mondo non finirà in quella data, ma è estremamente importante capire perché loro lo pensassero e anche quali erano i messaggi estremamente profondi che c'erano dietro questa festa. Non sono molti i templi degli Astechi che sono giunti fino a noi, sono stati quasi tutti distrutti dagli spagnoli, però ce ne sono due estremamente importanti. Il maggiore è quello che viene chiamato il Templo Mayor che si trova a Città del Messico, vicino allo Zocalo, la piazza principale di Città del Messico, ed era considerato dagli Astechi il centro dell'universo. Era dedicato al dio della pioggia Tlaloc e al dio del sole e della guerra Huitzilopochtli. Questo tempio era sicuramente il più importante proprio per il fatto che venisse considerato il centro dell'universo, però un tempio altrettanto importante è quello di Malinalco. Il tempio di Malinalco è stato scavato nella roccia e la cosa interessante è che presenta una statua a forma di aquila ricavata sempre nella roccia che è messa in una posizione particolare. Infatti nel giorno del sostitio d'inverno i raggi del sole riescono a colpire l'aquila. Ora questo aveva un significato simbolico estremamente importante, ricordiamo che presso gli Astechi c'erano due caste di guerrieri, spesso in contrapposizione fra di loro, quello dei guerrieri jaguaro e quello dei guerrieri aquila. Ma dietro c'era una rappresentazione simbolica molto importante, infatti il jaguaro era l'animale che rappresentava l'inframondo, mentre l'aquila rappresentava l'essere che portava i cuori dei sacrificati agli dèi e quindi era il rappresentante del cielo.